Anche la Fondazione Milani insieme a Libera Molise al Forum dei Movimenti per l'Acqua intervengono nel dibattito sull'istituzione dell'Egam, l'ente che nelle intenzioni della giunta frattura dovrebbe gestire la distribuzione dell'acqua. La proposta di legge regionale è slittata alla seduta di consiglio in programma martedì e le associazioni facendo un salto all'indietro al 2011 ricordano come in occasione del referendum i cittadini abbiano inequivocabilmente manifestato la propria volontà a lasciare pubblica la gestione dell'acqua. Siamo convinti che la regione debba intraprendere una strada diversa attraverso un riassetto normativo che permetta di razionalizzare la gestione del servizio ma senza espropriare le comunità locali dal proprio diritto a gestire il bene acqua ed evitando una deriva centratrice. Per questo chiediamo al consiglio regionale, continuano dei comitati, di rivedere la norma in discussione prevedendo già nel testo della legge una dichiarazione netta di gestione totalmente pubblica affidata in aus a un gestore unico che possa essere anche Molise Acque, opportunamente risanata e trasformata per renderla conforme alle norme vigenti. Viene chiesto ancora che sia garantita la pubblicità e la trasparenza delle riunioni del comitato d'ambito e delle assemblee territoriali di Bacino e che sia conservata ai comuni la proprietà delle fonti. Si fa poi notare che se si è interessati a incentivare il coinvolgimento dei cittadini occorre predisporre un comitato di sorveglianza sul modello di ABC Napoli, l'azienda che gestisce le risorse idriche del capoluogo campano e che presenta al suo interno rappresentanti locali del forum nazionale dei movimenti per l'acqua. Il timore di un eventuale commissariamento non può giustificare l'adozione frettolosa di un testo che non tutela il diritto dei cittadini molisani a mantenere in mani pubbliche la proprietà e la gestione di un bene così prezioso. Sarebbe, dicono, un macroscopico tradimento della volontà espressa con il referendum.